maria chiara giannetta è fidanzata da qualche mese si sussurra di una love story con maurizio lastrico collega in don matteo ma l'attrice pugliese è in realtà legata ad un altro uomo il settimanale diva e donna pubblicato alcune foto dell'interprete 29 n che passeggia mano nella mano per le strade di roma di recente la star di blanca si è dichiarata single ma pare che la realtà sia ben diversa sembra che da qualche anno maria chiara giannetta sia impegnata con davide marengo regista e sceneggiatore di 50 anni 21 in più della protagonista di don matteo stando a quanto si legge sulla rivista i due sarebbero innamorati da tempo e condividerebbero lo stesso appartamento nella capitale la coppia farebbe una vita molto riservata e per questo pochi sarebbero a conoscenza di questa love story nelle immagini dei paparazzi maria chiara giannetta e davide marengo che ha curato tra le tante cose la fiction il cacciatore con francesco montanari ma pure sirene e boris tre si scambiano sguardi complici e innamorati mano nella mano a un certo punto maria chiara appoggia la testa sulla spalla al momento non si conosco ulteriori dettagli su questa storia d'amore la giannetta tiene molto alla sua privacy nonostante la popolarità in alcune interviste si è definita addirittura singola ed edita solo ed esclusivamente al lavoro molto probabilmente l'incontro con merengo è avvenuto grazie a qualche amico in comune che lavora nel mondo dello spettacolo di sicuro la presunta relazione tra maria chiara giannetta e maurizio lastrico è una fake news la prima assicurato che non c'è nulla di sentimentale con l'attore se non profonda amicizia e grande stima la giannetta ha inoltre spifferato che l'amico e collega è felicemente fidanzato anche se non è noto il nome della dopo aver finito le riprese dell'ultima stagione di don matteo ora la giannetta è attesa su altri due set molto importanti il sequel di buongiorno mamma con raul bova e quello di blanca accanto a giuseppe zeno e 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